Grazie a tutti 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 Andiamo alla B La B va dalla pagina 13 Alla pagina 64 Dalla 13 alla 64 Chi è che mi dice un numero di pagina? 28 28? 28? Ciao Numero iscritto 302 L'impiegato? Ok La C va dalla pagina 64 alla pagina 96 La 64 la 64 la 64 la 96? La 64 la 96? La 64 la 96? 70? No A questo punto siamo la pagina 70 Datemi il numero da 1 a 12? 8? 8? 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Caramatti Elena? 118 da 96 a 118 una pagina Pasquale 117 chi è che mi dice un numero da 1 a 12 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donnini Raffaella numero di iscrizione 1320 chi è la Donnini Raffaella? insegnante a questo punto c'è la pagina la E va da 118 118 e basta vai strano potrei sostenere una pagina 118 e 119 118 e 119 118 numero numero da 1 a 12 5 1, 2, 3, 4, 5 il numero 5 è il numero di iscrizione è 1330 1330 è il Ducifrante è sempre la E scusate e allora e vabbè tanto una in più un Ducifrante e finiamo al 5 della pagina 119 1, 2, 3, 4, 5 evangelisti Jessica numero di iscrizione 1341 io vi saluto che devo andare che lui se no ce lo sta facendo ma ci sentiamo ci vediamo presto ciao ragazzi ciao Sara grazie di tutti ciao ciao io ho tagliato un giudetto se gli faccio il numero gente io me ne vado buona domanda ciao ciao Ducifrante ogni pagina la pagina è un caso e ho capito se mi deste la mano mentre cioè voglio dire fate fare da me il paese è come la scuola in casa mia non mi fanno fa tutta me il paese è tutto sbagliato è critica lo stesso è così andate a fanculo tutti andate a fanculo e chi se ne spiega ragazzi ciao salutiamo che c'è ancora qua pagina 119 a pagina 134 120 pagina 120 ciao ciao ragazzi numero un numero da 1 a 12 5 ancora 5 5 e 9 come ho detto prima 7 erano anche quelli 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fabiani Simonetta numero di selezione 1357 Casaliba 5 G G 5 5 5 6 7 6 8 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8 da 134 a 159 da 134 a 159 da 134 a 159 150 ciao ragazzi da 1 a 12 6 1,2,3,4,5,6 guarda Maria no non mi piace numero di iscrizione 1791 ha dei numeri qui odontoiata ok stiamo andando a sorte iscrivita a tutti la Ida è a 160 la Ida è a 160 a 164 162 la pagina un numero da 1 a 12 9 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Fabio Laporta numero di iscrizione 1843 impiegato si riparte con la seconda parte si era interrotta la prima 198 allora la pagina 198 darmi un numero da 1 a 12 11 11 Morelli Augusto numero di iscrizione 2251 operaio dopo di che abbiamo la pagina da 201 a 200 5 che è sempre la M 205 poi c'era sempre la M questa l'avremmo saltata allora 205 il numero 2 avevo detto prima no? si sì